Dopo i proclama e gli annunci, oggi a Vittoria nasce il Comitato Contro le Vendita al Nasta, un'iniziativa lanciata da altre agricolture che mira a smuovere politiche e istituzioni per dare risposte concrete ad arginare un fenomeno socio-economico ormai tristemente diffuso nel Paese. E siccome l'unità fa la forza, ecco che insieme al movimento di Gaetano Malanino ci sono i Forconi e su essa impresa, anti-racket di Ragusa e soccorso Contadino di Sicilia, una chiamata a raccolta degli operatori del comparto affinché le attuali regole del gioco vengano cambiate. Stamattina si costituisce un soggetto che tenta di unificare tutti i soggetti già in campo che operano contro le aste, in modo che ciascuno abbia certamente la propria bandiera ma tutti sotto un cappello unico per evitare polemiche e problemi che nel passato tra di noi ci sono stati. Questo soggetto credo che diventi uno dei possibili grimmaldelli per risolvere la questione delle aste giudiziarie perché noi da qui partiremo, formeremo questo comitato che sarà numericamente molto ampio perché metterà dentro tutti i soggetti che si trovano già in queste condizioni e tutti i soggetti che vogliono aiutare quelli che si trovano in queste condizioni. Metteremo la politica rispetto a questa cosa proprio in un confronto che dal punto di vista operativo fa vedere le differenze. Noi che operiamo e loro che continuano a fare nulla. Ma un'altra cosa importante è il segnale che lanciamo nei confronti dei tribunali perché noi a questo punto e in questo ci autodenunciamo già prima noi impediremo lo svolgere di qualunque asta noi faremo quello che loro chiamano probabilmente turba di vadasta ma per noi che sarà quello invece di salvaguardare questo territorio dagli affari malavitosi che si stanno compiendo in danno alle attività produttive e alla società intera.